Addio Gennaro 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 Signori scherzi non voglio, l'uomo non va che abborra il par di me costei, facete e quello il suo palaggio. E le sia stamparle in fronte, vorrei l'infamia che a stampare sono pronto su quelle mura dove è scritto Borgia. Che fai? Leggete adesso, odiami, orcia. Una facezia è questa, che può tostar domani ben carambolti. Ove del reo si chieda, questa è sua palestra, pronto sono io. Qualcun ci osserva, se pagli occhi, oddio. Grazie. 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 Grazie a tutti.